Tantissima soddisfazione, tantissima emozione anche per questo titolo tricolore che mi hai messo in discussione. Avete vinto sempre in testa, tenendo a debita distanza la concorrenza. No, siamo molti contenti, finalmente è finito, anche se manca tre partite, ma era più bello se Milan ha vinto oggi e noi per forza vincere domani. Ma è lo stesso, abbiamo vinto dopo un campionato molto lungo, duro, con successo, ma questo è normale durante un campionato. Poi al fine abbiamo vinto, questo è più importante e sono molto contento. Il Presidente ha detto che ovviamente ringrazia l'allenatore, ringrazia i giocatori perché è stato un campionato molto duro e ovviamente avete fatto tantissimo per vincere questo Scudetto. Sì, abbiamo fatto tanto, c'era tanta pressione sul giocatore, anche su Mr. Morinio che è venuto in Italia primo anno e tutti hanno fatto tanta pressione su lui, ma anche su noi perché tutti vogliono vedere che noi perdiamo, però invece abbiamo vinto e siamo molto contenti. Il momento più bello di questo campionato? Il momento più bello? No. Cos'è il gol più bello? Con te bisogna parlare di gol. No, il momento più bello è per forza adesso, perché adesso si vede che tutti sono rilassati, si vede emozioni e per descrivere queste emozioni devi vincere. Dicevano che Ibra fa pochi gol, quest'anno ne hai fatti tantissimi, c'è ancora la classifica gannoniere da vincere, te la vedi con Divaio ancora tre giornate, anche quello in certa qual maniera è una cosa bella per cui lottare. No, questa è una cosa che mi manca, ci proviamo tutto per vincerlo, però quello più importante è che abbiamo già vinto, adesso questa è un'extra cosa e proviamo, se non va non va, se va ancora meglio. Hai una dedica speciale? Come? Hai una dedica speciale? No, sono contento per tutti, tutti in giro la squadra, tifosi, club, che questo è il terzo in filo per me e continuiamo, crescere e vincere. Cosa vinciamo l'anno prossimo? Speriamo tutto. L'anno prossimo si vince tutto? Firma Ibra questo? No, faccio tutto per vincere, però vediamo. Grazie, ciao. Grazie, ciao Zlatan.